musica musica ok adesso è un'occhiata qui con l'entrata la mancia la sinistra che chiude il dazio e poi destra il dazio e poi destra il dazio e poi destra il dazio Sì, è molto scivoloso Questa lunga lunga mi chiude anche questa In fondo di più, però Destra lunga, questa mi chiude in fondo con l'aile Quasi Ma se deve fare così per vincere Ti mistra che vai giù Con il dos Parecchio In fondo, poi Ok, questo dos chiude Tanto qui Ok Lo si intoppo a sinistra-detta Poi adesso hai questa parte qui con Invecezione si è preguita Bello, no? No No Grazie a tutti.